benvenuti o bentornati sul mio canale io sono silvia e in questo video realizzeremo insieme passo passo questo progetto borsa interamente infilato un modello particolare nella sua semplicità con una sorpresa questo modello di borsa ha due versioni quella compatta che vedendo adesso è una versione molto più grande che andiamo ad ottenere con un piccolo gioco di bottoni magnetici i bottoni magnetici sono posizionati sul laterale della borsa e una volta aperti ci consentono di ampliarne le dimensioni e ovviamente possiamo poi richiudere il tutto per tornare alla forma principale cominceremo la nostra lavorazione da questo fondo rettangolare ma con gli angoli stondati scopriremo poi come realizzare questo punto utilizzando solamente i punti base dell'uncinetto e concluderemo il nostro percorso realizzando questi manici incorporati all'interno del progetto stesso potrete replicare questa borsa con le misure che preferite grazie alle spiegazioni che troverete all'interno del video la mia versione è alta circa 30 centimetri potrete trovare poi il kit e tutte le informazioni per i materiali nel box informazioni subito sotto il video insieme al numero dell'assistenza agli acquisti di borgo dei pazzi firenze è una borsa adatta a tutte le stagioni molto versatile l'abbiamo visto possiamo portarla in due modi diversi e ovviamente possiamo realizzarla o con un filato lurex come ho fatto io oppure se preferite un look un pochettino più casual con un filato senza lurex passiamo quindi a vedere insieme tutti i materiali che ho utilizzato e ovviamente ad uncinettare insieme il nostro progetto per il nostro progetto un filato 100 per cento made in italy inda lux di borgo dei pazzi firenze 90 per cento polipropilene e 10 per cento di lurex il lurex è incorporato all'interno del filato quindi non perde brillantini durante la lavorazione la singola rocca ha un peso di 250 grammi per una lunghezza di circa 250 metri uncinetti e ferri da maglia consigliati due e mezzo oppure tre e questo colore super particolare un viola bordeaux con lurex tono su tono lo trovate nella tabella colori con il codice numero 6 vi lascerò indicato sullo schermo il numero esatto di rocche che andrò ad utilizzare per questo progetto mentre nel box informazioni subito sotto il video troverete il link e tutte le informazioni per l'acquisto dei materiali di questo progetto andrò ad utilizzare un uncinetto tre mezzo ricordate di scegliere l'uncinetto in base alla tipologia di filato che scegliete di usare e ovviamente in base alla vostra mano di lavorazione per chiudere i laterali del nostro progetto avremo poi bisogno di due bottoni magnetici come questi con alette nella parte posteriore il numero di catenelle che andremo ad avviare andrà ad incidere sulla profondità del nostro progetto se desiderate quindi una borsa più capiente dovete aumentare il numero di catenelle iniziali mentre i giri di lavorazione che andremo ad eseguire insieme andranno ad influire sulla larghezza del nostro progetto cominciamo andando ad avviare 12 catenelle completata la mia dodicesima catenella vado ad aggiungere una catenella di supporto per un totale di 13 e ritorno poi indietro alla dodicesima catenella la penultima che ho lavorato che corrisponde anche alla seconda catenella dall'uncinetto entro nella catenella prendo il e lavoro un punto basso proseguo lavorando una maglia bassa singola in ciascuna catenella che mi si presenta fino ad arrivare al termine del mio giro se avrò lavorato correttamente al termine del giro avrò un totale di 12 punti bassi per cominciare il nuovo giro realizzo una catenella di supporto e volto il lavoro ho definito di supporto questa catenella poiché non va a sostituire alcun punto ci serve semplicemente per voltare il giro nel primo punto disponibile di questo giro che corrisponde anche all'ultima maglia bassa che abbiamo lavorato dobbiamo eseguire un aumento cioè lavorare due maglie basse all'interno dello stesso punto di base vado quindi ad entrare nel primo punto disponibile e lavoro una e due maglie basse nello stesso punto mi sposto sul punto successivo qui vado a lavorare un solo punto basso e proseguo lavorando una maglia bassa singola su ciascun punto che mi si presenta fino ad arrivare al penultimo punto del mio giro sul penultimo punto del giro lavoriamo una maglia bassa singola e ci resta da lavorare l'ultimo punto sull'ultimo punto del nostro giro lavoriamo un aumento due maglie basse nello stesso punto di base entro quindi nell'ultimo punto e lavoro una e due maglie basse abbiamo quindi lavorato un aumento sulla prima e sull'ultima maglia del nostro giro se abbiamo lavorato correttamente avremo un totale al termine del giro di 14 punti cominciamo il giro successivo con una catenella di supporto voltiamo il lavoro e in questo giro andiamo a ripetere gli stessi passaggi che abbiamo visto insieme nel giro precedente sul primo punto disponibile del giro lavoriamo un aumento quindi due maglie basse nello stesso punto di base e proseguiamo con una maglia bassa singola su ciascun punto che ci si presenta fino ad arrivare all'ultimo punto disponibile del nostro giro sull'ultimo punto del giro lavoriamo un aumento quindi due maglie basse nello stesso punto di base se abbiamo lavorato correttamente al termine del giro avremo un totale di 16 punti bassi da questo momento in poi smettiamo di aumentare andremo infatti a lavorare una maglia bassa singola su ciascun punto che ci si presenta catenella di supporto e voltiamo il lavoro e lavoriamo una maglia bassa singola sopra ciascun punto che ci si presenta fino al termine del giro poiché non abbiamo lavorato alcun aumento al termine di questo giro avremo sempre un totale di 16 punti e questo giro a maglia bassa senza aumenti è il primo di 30 giri di lavorazione che dobbiamo eseguire in questo modo dovremo quindi ripetere i passaggi che abbiamo appena visto insieme per altri 29 giri di lavorazione a punto basso senza aumenti è importante al termine di ogni giro prima di cominciare successivo andare sempre ad eseguire una catenella di supporto proseguiamo quindi lavorando una maglia bassa singola su ciascun punto che ci si presenta senza aumenti per altri 29 giri di lavorazione completati i nostri giri a punto basso avremo questo risultato vediamo insieme qualche misura il nostro fondo da dove siamo partiti con le catenelle misura circa 8,5 cm nella parte centrale dopo i nostri giri con aumento abbiamo una misura una profondità di circa 12,5 cm per una larghezza complessiva di circa 22 cm andiamo ora a completare il nostro fondo ricreando questa curva giocando con delle diminuzioni fatta sempre la catenella e voltato il lavoro nelle prime due maglie basse del nostro giro andiamo ad eseguire una diminuzione entriamo nel primo punto prendiamo il filo lo portiamo attraverso entriamo nel punto successivo prendiamo il filo lo portiamo attraverso e abbiamo tre asole sul nostro uncinetto carichiamo il filo e le chiudiamo tutte e tre insieme contemporaneamente proseguiamo lavorando una maglia bassa singola su ciascun punto che ci si presenta fino ad arrivare alle ultime due maglie del nostro giro sulle ultime due maglie del giro lavoriamo una diminuzione entriamo nel penultimo punto prendiamo il filo entriamo nell'ultimo punto del giro abbiamo tre asole carichiamo e le chiudiamo tutte insieme se abbiamo lavorato correttamente al termine di questo giro abbiamo un totale di 14 punti catenella di supporto e voltiamo il lavoro in questo giro ripetiamo esattamente gli stessi passaggi che abbiamo eseguito nel giro precedente sui primi due punti del giro lavoriamo una diminuzione entriamo nei primi due punti prendiamo il filo e chiudiamo tutto insieme lavoriamo poi una maglia bassa singola fino agli ultimi due punti del nostro giro e su questi due punti lavoriamo un'ultima diminuzione andremo così ad ottenere in totale 12 maglie basse lo stesso numero di maglie basse con le quali abbiamo avviato il nostro fondo l'ultimo giro di lavorazione del nostro fondo sarà il giro di perimetro o scontorno e a questo punto della nostra lavorazione il nostro fondo ha una misura di circa 23,5 centimetri misura che ovviamente andrà leggermente ad aumentare con il nostro giro di perimetro se desiderate inserire della rete a supporto del vostro fondo potete farlo proprio durante questo giro potrete comunque rendere più rigido il vostro fondo utilizzando anche altri materiali ad esempio la salpa il feltro oppure il termo indurente cominciamo il nostro giro di perimetro sempre con una catenella di supporto e voltiamo il lavoro e andiamo a lavorare una maglia bassa singola sopra ciascun punto che ci si presenta fino ad arrivare al nostro angolo nell'ultimo punto disponibile quello che formerà il nostro angolo lavoriamo questa sequenza di punti maglia bassa una catenella e una maglia bassa nello stesso punto di base dobbiamo proseguire lavorando una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione che abbiamo eseguito vado quindi sulla riga di lavorazione sottostante e lavoro un punto basso faccio lo stesso sulla riga di lavorazione successiva e e proseguo in questo modo per ciascun giro di lavorazione fino ad arrivare all'angolo opposto arrivate all'angolo il punto nel quale dobbiamo eseguire la nostra sequenza sarà questo alla base della prima riga di punto basso che abbiamo lavorato qui a sinistra abbiamo le catenelle qui abbiamo il punto basso entriamo quindi nel punto presente nell'angolo e lavoriamo maglia bassa catenella e maglia bassa nello stesso punto ruotiamo il lavoro in modo da avere le catenelle rivolte verso l'alto dobbiamo lavorare una maglia bassa qui alla base della riga di maglia bassa subito sotto le nostre catenelle quindi vado nel punto successivo allungo il filo in modo da avere i punti tutti alla stessa altezza e lavoro un punto basso proseguo in questo modo fino ad arrivare al mio angolo nell'ultimo punto disponibile lavorerò la mia sequenza di punti maglia bassa maglia bassa catenella e maglia bassa nello stesso punto di base proseguiamo ora lavorando una maglia bassa singola per ciascun giro di lavorazione fino ad arrivare qui dove abbiamo cominciato il nostro giro di perimetro o scontorno siamo davanti all'ultimo punto disponibile dove troviamo la prima maglia bassa che abbiamo lavorato per cominciare il nostro giro di perimetro o scontorno in questo punto dobbiamo quindi eseguire la nostra sequenza di punti abbiamo già lavorato una maglia bassa lavoriamo la seconda maglia bassa sempre nello stesso punto e ci resta da lavorare la nostra catenella la andiamo ad eseguire utilizzando un ago allunghiamo l'asola sfiliamo l'uncinetto e tagliamo il filo sfiliamo e poniamo il filo su un ago con il nostro ago passiamo sotto ad entrambe le costine della prima maglia bassa lavorata per il nostro giro di perimetro e portiamo il filo con noi torniamo poi indietro all'ultima maglia bassa lavorata questa volta passando al centro tra le due costine portando così il filo sul retro del lavoro blocchiamo il filo sul retro del fondo facciamo un cappio con un nuovo filo e scegliamo una maglia qualsiasi tra quelle presenti su uno dei due lati corti del nostro fondo scelta la nostra maglia dobbiamo entrarvi in costa retro prendendo cioè solamente la metà costina più lontana rispetto a noi in questo modo poniamo il filo sull'uncinetto e lo portiamo attraverso prendiamo il filo e blocchiamo il tutto ci spostiamo poi sul punto successivo anche in questo caso entriamo solamente nella costa retro nel nostro punto e lavoriamo un punto basso procediamo in questo modo lavorando una maglia bassa in costa retro sopra ciascun punto che ci si presenta fino ad arrivare al termine del giro lavorata l'ultima maglia bassa in costa retro sull'ultimo punto disponibile dobbiamo chiudere questo giro allunghiamo l'asola e sfiliamo l'uncinetto a sinistra abbiamo il punto con il quale ci siamo agganciati con un nuovo filo e la prima maglia bassa in costa retro completa che abbiamo lavorato entriamo da dietro sotto ad entrambe le costine che compongono questo punto basso prendiamo l'asola vi consiglio di lasciarla morbida la poniamo sull'uncinetto e la portiamo sul retro del lavoro l'asola è diventata così la parte superiore del punto con il quale ci siamo agganciati con un nuovo filo con l'uncinetto dobbiamo rientrare qui sotto alle due costine del punto al di sotto del quale abbiamo fatto passare la nostra asola quindi ci spostiamo sul davanti entriamo nel punto e lavoriamo un punto basso vi consiglio di segnare questo punto con un marcatore così sappiamo che da questa maglia comincia e termina il nostro giro rientriamo ora nello stesso punto nel quale andiamo a lavorare un punto alto carichiamo il filo entriamo nello stesso punto lo portiamo attraverso carichiamo e chiudiamo le prime due asole carichiamo e chiudiamo le altre due per evitare di avere punti in più sulla nostra lavorazione saltiamo il punto successivo e andiamo nel seguente dove ripetiamo la stessa sequenza di punti salto vado nel punto successivo maglia bassa e maglia alta nello stesso punto di base dopo aver lavorato il punto alto è fondamentale saltare sempre il punto successivo procediamo quindi ripetendo questa sequenza di punti fino a ritrovarci qui al termine del nostro giro arrivati al termine del giro dopo aver lavorato l'ultima sequenza di punti vi sembrerà non ci siano maglie da saltare quindi impossibile completare tutta la sequenza in realtà c'è ancora un punto che noi andiamo a saltare quello formato dall'asola che avevamo portato sul retro del lavoro quindi la nostra sequenza è corretta dobbiamo ora chiudere questo giro e cominciare il successivo per fare questo dobbiamo andare sulla maglia che avevamo segnato col nostro marcatore su questa maglia lavoriamo direttamente un punto basso e riposizioniamo il marcatore nello stesso punto andiamo a rientrare e lavoriamo il punto alto e riprendiamo così la nostra sequenza di punti saltiamo il punto successivo andiamo nel seguente maglia bassa e maglia alta nello stesso punto ripetiamo la nostra sequenza per tutto il giro lavorata l'ultima sequenza dobbiamo lavorarne una nuova sulla maglia che abbiamo segnato con il marcatore rimosso il marcatore andiamo sul punto vi lavoriamo un punto basso riposizioniamo il marcatore e sullo stesso punto lavoriamo un punto alto questi sono tutti i passaggi che dovremmo ripetere per il corpo del nostro progetto lavoriamo maglia bassa e maglia alta nello stesso punto di base saltiamo successivo e nel seguente ripetiamo la nostra sequenza di punti al termine del giro sulla maglia assegnata con il marcatore lavoriamo una nuova sequenza il marcatore viene posto sempre sulla prima maglia bassa di ogni nuova sequenza all'inizio di ogni nuovo giro proseguiamo in questo modo giro dopo giro fino ad ottenere un corpo borsa come questo ho lavorato giro dopo giro fino a raggiungere un'altezza complessiva di circa 21 centimetri vediamo quindi come chiudere questa parte della nostra lavorazione e andare a completare la parte superiore del nostro progetto siamo al termine del giro ho lavorato la mia ultima sequenza di punti e qui ho la maglia assegnata con il mio marcatore rimuovo il marcatore entro nella maglia che avevo segnato prendo il filo e chiudo il giro con un punto bassissimo dopodiché lavoro una catenella che andrà a sostituire il primo punto basso di questo giro mi sposto sulla maglia seguente in questo caso un punto alto e lavoro un punto basso punto basso che vado ora a segnare con il marcatore proseguiamo lavorando una maglia bassa singola su ciascun punto che ci si presenta senza saltare alcun punto sulla base fino ad arrivare al termine del nostro giro attenzione a un particolare l'ultimo punto basso lo andiamo a lavorare sull'ultimo punto alto disponibile non dobbiamo lavorare il punto bassissimo con il quale abbiamo chiuso il giro precedente se lavorassimo una maglia bassa sopra al punto bassissimo andremo ad ottenere un punto in più allunghiamo l'asola sfiliamo l'uncinetto togliamo il marcatore ed entriamo da dietro sotto la maglia che avevamo segnato prendiamo la nostra asola la poniamo sull'uncinetto e la portiamo sul retro del lavoro in questo modo l'asola diventa la parte superiore della catenella con la quale abbiamo cominciato il giro precedente per cominciare il nuovo giro allunghiamo l'asola sfiliamo di nuovo l'uncinetto e passiamo sotto ai fili che compongono l'asola che avevamo portato sul retro del lavoro prendiamo il filo lo portiamo sotto creando una nuova asola recuperiamo quella lasciata sul retro del lavoro prendiamo il filo e chiudiamo abbiamo così creato la prima parte del primo punto basso del nuovo giro andiamo sul punto successivo e lavoriamo un punto basso lo segniamo con il marcatore così sappiamo dove dovremo chiudere il prossimo giro e lavoriamo nuovamente una maglia bassa su ciascun punto che ci si presenta lavorata l'ultima maglia bassa andiamo a chiudere anche questo giro allunghiamo l'asola e con l'uncinetto entriamo da dietro sotto la maglia che avevamo segnato il primo punto basso completo prendiamo l'asola la poniamo sull'uncinetto e la portiamo dietro al lavoro questi passaggi di chiusura e inizio del nuovo giro li dobbiamo ripetere per altri due giri di lavorazione questi sono i fili della nostra asola con l'uncinetto passiamo sotto ad entrambi i fili prendiamo il filo proveniente dalla rocca lo portiamo attraverso rientriamo nell'asola lasciata sul retro prendiamo il filo e chiudiamo questo è il punto che andiamo poi a completare con la chiusura giro andiamo sul punto successivo lavoriamo un punto basso che segniamo col marcatore e proseguiamo lavorando una maglia bassa sopra ciascun punto quindi lavoriamo questo giro di maglia bassa e un ulteriore giro dopodiché vediamo insieme come completare la nostra lavorazione completati questi due giri a punto basso chiudiamo questo giro e lavoriamo qualche punto lasciamo per un momento in sospeso la nostra lavorazione prendiamo il nostro progetto e lo andiamo a stendere ad appiattire sul tavolo dividendolo in due parti uguali facciamo questo perché all'interno del prossimo giro di lavorazione andremo a ricavare i due manici per fare questo una volta appiattito il progetto misuriamo i centimetri della parte superiore misuriamo la parte superiore della borsa che nel mio caso corrisponde a 39 centimetri e andiamo a dividere questa misura a metà così da trovarne il centro nel mio caso il centro sarà a 19,5 centimetri applico un marcatore ed è ora a decidere quanto spazio dedicare al mio manico voglio una misura intermedia né troppo grande né troppo piccolo ho pensato quindi ad un manico di circa 16 centimetri partendo dalla maglia che ho segnato con il marcatore che indica l'esatta metà del mio corpo borsa vado a posizionare il mio metro facendo corrispondere 8 centimetri sotto il marcatore dovrò quindi segnare la maglia corrispondente a 16 centimetri e la maglia qui all'inizio del mio metro ripeto gli stessi passaggi sull'altro lato del mio progetto i marcatori dovranno avere esattamente la stessa posizione ho inoltre misurato la distanza di questi due marcatori rispetto al bordo della borsa entrambi i marcatori sono posizionati a una distanza rispetto al bordo di 12 centimetri siamo all'inizio del giro quindi sul laterale del nostro progetto dobbiamo lavorare una maglia bassa su ciascun punto che ci si presenta fino ad arrivare qui davanti al primo marcatore per realizzare il nostro manico arrivati davanti alla maglia assegnata col marcatore dobbiamo contare quanti punti sono presenti tra il marcatore di destra e il marcatore di sinistra questo sarà il numero minimo di catenelle che dovremo lavorare per il nostro manico a questo numero di punti ne andiamo ad aggiungere 5 in più nel mio caso avendo 21 punti ne aggiungo 5 per un totale di 26 catenelle per realizzare il mio manico rimuovo quindi il marcatore e lavoro una maglia bassa sul punto che avevo segnato e vado a lavorare le mie 26 catenelle il numero delle maglie più 5 completate le catenelle salto tutti questi punti e vado sul marcatore di sinistra e sulla maglia che avevo segnato vado ad eseguire un punto basso così da bloccare le mie catenelle proseguo lavorando una maglia bassa su ciascun punto fino ad arrivare al prossimo marcatore qui andiamo a ripetere gli stessi passaggi lavoriamo una maglia bassa sulla maglia assegnata con il marcatore di sinistra lavoriamo lo stesso numero di catenelle che abbiamo eseguito dall'altro lato della borsa saltiamo tutti questi punti e andiamo qui sulla maglia assegnata col marcatore di sinistra rimuoviamo il marcatore e sulla maglia che avevamo segnato lavoriamo un punto basso proseguiamo ora lavorando una maglia bassa singola su ciascun punto che ci si presenta fino ad arrivare al termine del giro in questo giro dobbiamo lavorare una maglia bassa sopra ciascun punto che ci si presenta maglie basse e catenelle comprese lavoriamo quindi una maglia bassa su ciascun punto basso del giro quando arriviamo davanti alle catenelle dentro a ciascuna catenella lavoriamo un punto basso così da dare sostegno a ciascun manico proseguiamo quindi lavorando una maglia bassa su ciascun punto per tutto il nostro giro completato questo primo giro di punto basso i nostri manici iniziano a prendere forma i passaggi dei prossimi due giri di lavorazione sono estremamente semplici dobbiamo chiudere iniziare ogni giro con i passaggi che abbiamo visto insieme e dobbiamo lavorare una maglia bassa sopra ciascun punto che ci si presenta in questo caso saranno sempre maglie basse su maglie basse perché le catenelle le abbiamo appena lavorate andiamo quindi a lavorare una maglia bassa su ciascun punto del giro per i prossimi due giri di lavorazione questo sarà l'aspetto del manico dopo i nostri giri a punto basso andiamo ora ad eseguire l'ultimo giro di lavorazione del nostro progetto siamo al termine del nostro giro ma invece di ripetere i passaggi per la chiusura che abbiamo eseguito nei giri precedenti andiamo questa volta sul davanti del nostro punto basso quello segnato col marcatore e chiudiamo il tutto con un punto bassissimo dopo di che ci spostiamo sul punto successivo e lavoriamo un altro punto bassissimo attenzione lavoriamo una maglia bassissima sopra ciascun punto che ci si presenta fino ad arrivare davanti alle maglie che compongono il nostro manico questa è la prima catenella che componeva il nostro manico vi dobbiamo entrare con l'uncinetto prendere il filo allungare verso l'alto fino all'altezza dei punti bassissimi controllare che il filo non abbia torsioni e andare a chiudere come se volessimo eseguire un punto basso stessa cosa sul punto successivo scendiamo entriamo nella catenella prendiamo il filo allunghiamo verso l'alto e chiudiamo ripetiamo lo stesso passaggio per tutte le catenelle del nostro manico quando abbiamo lavorato tutti questi punti allungati all'interno delle catenelle del manico riprendiamo la nostra lavorazione eseguendo un punto bassissimo sopra tutte le maglie basse che ci si presentano fino ad arrivare al secondo manico dove andiamo a ripetere esattamente gli stessi passaggi che abbiamo visto qui quindi sulle maglie basse presenti sui laterali lavoriamo i punti bassissimi dove ci sono le maglie basse e alla base le catenelle andiamo ad eseguire questi punti allungati proseguiamo in questo modo alternando questi due punti fino ad arrivare al termine del giro e andiamo ovviamente a concludere insieme il nostro progetto questa è la maglia bassissima con la quale avevamo chiuso il giro precedente e questa la prima maglia bassissima lavorata per questo giro andremo ora a creare una finta maglia bassissima per chiudere la nostra lavorazione allunghiamo l'asola sfiliamo l'uncinetto tagliamo il filo sfiliamo il tutto e poniamo il filo su un ago con l'ago entriamo frontalmente dall'alto verso il basso dentro la maglia bassissima che abbiamo lavorato come primo punto di questo giro dopodiché torniamo indietro all'ultimo punto bassissimo lavorato e passiamo in mezzo frontalmente tra le due costine e anche in mezzo alla nostra lavorazione questo è quello che otteniamo un finto punto bassissimo che ci permette di chiudere in modo invisibile senza alcun scalino il nostro progetto non ci resta che bloccare il filo all'interno del lavoro a questo punto non ci resta che posizionare le calamite laterali per fare questo prendiamo gli angoli del nostro progetto e andiamo a ripiegarli verso l'interno da una parte e dall'altra ciascun bottone magnetico andrà posizionato all'interno della piega che abbiamo appena ottenuto ovviamente le due parti dovranno essere posizionate alla stessa altezza e vi consiglio di lasciare qualche centimetro qui rispetto al bordo superiore in questo modo quando andrete a foderare la vostra borsa le alette dei bottoni magnetici rimarranno nascoste verificata la giusta posizione per entrambe le parti andiamo all'interno della borsa posizioniamo le placchette di sicurezza apriamo le nostre alette e ovviamente ripetiamo lo stesso passaggio sull'altra piega del nostro progetto così da fissare entrambi i bottoni magnetici a vostra scelta se aggiungere un ulteriore bottone magnetico qui al centro per chiudere il vostro progetto in questo caso vi consiglio i bottoni magnetici con le alette laterali non posteriori come quelli che ho utilizzato così da cucire il bottone direttamente sulla vostra lavorazione per quanto riguarda invece la fodera del progetto vi basta realizzare una semplicissima fodera a sacchetto siamo così arrivati al termine di questo progetto che io spero sia stato per voi un buon spunto creativo se è così fatemelo sapere con un bel pollice su e un commento proprio qui sotto il video nel box informazioni sempre qui sotto potrete trovare tutte le informazioni e i link per l'acquisto dei materiali questo filato veramente particolarissimo in dalux di borgo dei pazzi firenze e i bottoni magnetici e vi ricordo sempre nel box il numero dell'assistenza whatsapp di borgo dei pazzi per aiutarvi con tutti i vostri acquisti creativi se non volete perdervi tutti i prossimi tutorial che ho in programma per voi vi invito se ancora non l'avete fatto iscrivervi sul canale cliccando sull'apposito pulsante subito sotto il video perciò con questo nuovo tutorial borsa io vi saluto vi auguro come sempre buona creatività e spero di rivedervi molto presto in un nuovo video sempre qui sul mio canale youtube a presto a presto Grazie a tutti.